Il mio nome è Jing Jing, vengo dalla Cina e sono in Italia dal 2016. Da qualche mese sono ospite delle parrocchie che, insieme alla Caritas, ci aiutano per trovare un lavoro e una casa. È un'esperienza estremamente positiva, in quanto c'è uno scambio di cultura, di umanità, del diverso sentire la vita e la solitudine, essendo lontane da casa e non avendo più nulla, avendo lasciato tutto alle loro spalle. Quando mi sono trasferita qui, sono andata alla preparazione dei panini per le persone che vivono in strada. Faccio questo volentieri. Ho appena iniziato un corso per la pasticceria. Mi piacerebbe fare la cuoca o la pasticcera. Però ho la studio italiano e cucino insieme agli altri ospiti della casa. Fare il volontariato mi aiuta ad integrarmi meglio, a conoscere la cultura italiana e a conoscere persone nuove. Grazie.